Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami La passione per fare lo spettacolo nasce da quando è nato Uccio quindi si parla di 52 anni fa, sai, uno ha la passione di fare spettacolo la passione, la voglia e quindi inizia con la parrocchia, inizia con gli spettacolini, con gli amici, nei villaggi e poi ti accorgi che è bellissimo perché studi un attimino, ci studi anche ovviamente, ti prepari e poi quando questa passione diventa la professione è in effetto una cosa bella e che ti gratifica tantissimo Le barzellette, non avrei mai pensato di raccontare le barzellette in vita mia ho iniziato a raccontarle perché pur di partecipare a un programma televisivo ripeto, avendo la passione volevo farmi vedere e c'era l'occasione di partecipare alla 6L'ultima programma di barzellette dove si raccontavano le barzellette non avevo mai raccontato una barzellette in vita mia, ci ho provato, ho passato la selezione, è andata bene e poi insomma nel 97 stiamo parlando, vinsi il premio Giro Bramieri e a distanza di 3 anni dal 97 quindi nel 2000 pensiamo anziché raccontarle le barzellette di farle diventare dei cortometraggi, ecco come nasce il nostro Moodoo Nasce perché c'era la proposta di voler fare qualcosa nella fascia comica allora avevano la fascia comica da dove sono nati Totti e Tata, li conosciamo benissimo anche io volevo partecipare, mi dissero perché non inventi un programma comico cucito su di te e sì che cosa potevo fare? Allora pensandoci bene, un po' quello che ho detto prima io raccontavo le barzellette da 2-3 anni dopo l'esperienza della 6L'ultima e pensai anziché raccontarle in televisione le faccio diventare dei filmati, dei cortometraggi e così nasce il Moodoo è tutto più difficile, più passa il tempo è più difficile, adesso io ho avuto l'occasione con Trenorba però adesso anche mi metto nei panni, se io fossi arrivato adesso col mio Moodoo forse non avrei avuto manco lo spazio su Trenorba perché ovviamente col digitale, tanti canali è tutto più difficile, però dico agli amici che piace fare spettacolo, piace cantare, piace suonare, piace esibirsi studiate innanzitutto, studiate perché è importante lo studio, si parla tanto di amici, il programma di Canale 5 però penso che là sia veramente un programma dove arriva la gente che ama ballare, cantare, recitare ma se poi non studia e non studia tanto non riesce certo ad andare avanti quindi quello è il programma secondo me per eccellenza dove si studia tanto, è proprio una palestra ma comunque lasciando perdere amici, vi piace fare teatro, studiate teatro, vi piace fare canto, studiate canto musica, studiate musica, chi vi parla c'ha una figlia che ha la mia stessa passione ma sta a Roma adesso a studiare cinema quindi immaginate un po', l'importante è studiare Radio Dopo Zero, guardate un po' come lo giro e lo volto questo microfono, sempre Radio Dopo Zero 00, 01, 02, no, 00, 00, 00, ascoltate sempre Radio Doppio Zero perché chi è alle spalle della telecamera sembrano dei ragazzi belli, svegli e poi soprattutto adesso che c'è stata la mia intervista ragazzi e vi possiamo abbandonarla più, Radio Doppio Zero, eccola qua Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero Suona ciò che ami, più suona e più la ami